Diamo subito la parola alla sua eccellenza e al signor Sinti con un saluto perché no al dottor Brutti dopodiché chi ha la pazienza di proseguire nel nostro itinerario e ha la possibilità di fermarsi per volentieri Chi deve andare via? Posso però dire che vedete la mostra assicura due visite guidate già stabilite al giorno una alle ore 11 e un'altra alle ore 18 però si possono fare concordando se c'è presente un gruppo che chiede una visita guidata ma si parla con la segreteria. In secondo punto è possibile la visita personale perché ci sono le guide rapide dove in corrispondenza di ogni bacheca vedete i numeri ognuno legge così in modo particolare di che si dà Chi desidera maggiori informazioni c'è il catalogo di questa esposizione che è invidita al modico prezzo di 10 euro Va bene? Eccolo